Salve ragazzi e bentornati su QDSJ, su Q2, sul joystick e siamo qui con un gioco che vi avevo fatto la recensione su Sleeping Dog e siamo qui per farvi vedere che dopo moltissimo tempo so schiantarmi con un emerito stupido Allora, prima io direi di andare a vestirci e poi fare una missione così casuale tanto per ritornare un pochino su questo gioco, su Sleeping Dog Tanto per farvi un po' vedere quello che vi dicevo Come potete vedere è un simile GTA però ambientato in Cina Questo penso che lo potessi vedere anche da soli Ok, ora scusate se ho detto fermo ma ho dovuto cambiare delle cose nella schermata Umez Ok, dopo taglierò ma adesso mentre cerco una missione tengo online Allora, Amanda oppure rapina e consegna Facciamo... io non lo so ragazzi quello che possiamo fare Facciamo questo e vediamo quanto è lungo Comunque ci vediamo subito alla missione se no vi scassate il cazzo Scusate ragazzi se sto ridendo ma ho appena fatto una cosa tristissima Ho ammazzato 27 pedoni e ho dilagnato 4 macchine comunque Dettagli, cominciamo questa benedetta missione Cazzo 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 ragazzi cazzo Mi stanno orando Non so se l'avete notato No, orato del tutto Vaffanculo Bene ragazzi Ho letteralmente sbagliato tutto Perché sono una merita testa di cazzo e non so ora cosa sta succedendo Se mi fa riavviare la mission Benissimo Non missione non me la fa riavviare E quindi abbiamo deciso non di spoilerarvi Ho deciso in questo momento che non voglio spoilerarvi la storia Ma Vado un pochino così a farvi vedere un pochino il mondo di Sleeping Dog Ok Un giorno di questi per lo speciale 10 iscritti Che per me e Shadow è un traguardo stupendo Perché Come vi ho detto Noi l'avremmo fatto per passatempo Ma Comunque 10 iscritti Anche se per chi ne ha 50.000 100.000 Sono un emerito cazzo Per noi sono abbastanza Quindi faremo lo speciale 10 iscritti Non vi preoccupate ragazzi Cioè Scusate ma non è chissà che Non sarà cosa chissà che Perché tutti questi mezzi non ce l'abbiamo ragazzi Ve lo dico Splicito Questi mezzi Tutti i mezzi Della editing Video Tutte queste cose Non ce le abbiamo Quindi Scusateci ma Lo faremo un pochino così a scazzeggium Io e lui Tanto per farvi spero divertì Per farvi divertire Che questa è la nostra intendo soprattutto Bene Questo è Sleeping Dog Non è malà Oh cazzo Come vedete nell'estate faccio un casino porco Ma Non è malaccio Ora Io vi faccio vedere no A parte che ho fatto Guardate quanto cazzo Cannono le moto Allora Salici Salici Vabbè È uno stronzo Non ci vuol salire Cazzo Non ci vuol salire Grazie.